mi trovo a taranto presso piazza madre teresa di calcutta forse non è molto nota ma è quella piazzetta che per capirci si trova alle spalle di viale magna grecia alle spalle dell'old fashion giusto per capirci come vedete una serie di alberi un pino in particolare che non voglio creare allarmismi non voglio generare un procurato allarme ma lo vedo molto ma molto ricurvo molto ma molto inclinato e siccome ci sono stati precedenti davvero paurosi di altri pini che poi si sono completamente ribaltati e sono caduti sono stramazzati passatemi questa espressione al suolo non vorrei che la stessa situazione si verificasse qui in piazza madre teresa di calcutta perché ripeto non è solo questo pino ma vedo anche altri alberi che appaiono quantomeno ricurvi e allora è opportuno che l'amministrazione comunale il settore di competenza il settore ambiente faccia le sue verifiche perché l'amministrazione melucci in molti casi come già accaduto con altri alberi vedi l'esempio di piazza messapia vedi quanto accaduto in via cagliari arriva come si suol dire a babbo morto invece bisogna intervenire prima in queste situazioni perché come si suol dire prevenire è meglio che curare anche perché poi potrebbero verificarsi delle sciagure degli incidenti che potrebbero essere anche mortali e allora come dire cari signori visto che signori dell'amministrazione visto che avete già vissuto le esperienze ci avete fatto vivere le esperienze quasi tragiche di via cagliari di piazza messapia un bel controllo albero per albero qui in piazza madre teresa di calcutta è assolutamente indispensabile capito signori dell'amministrazione melucci perché poi se succede una disgrazia io prendo questo filmato e lo porto in procura e vi dico signori cari io vi avevo avvertito voi non avete provveduto grazie a tutti grazie a tutti